Peugeot Italia per il terzo anno consecutivo sostiene la Unendo Yamamai, la squadra che milita nel campionato italiano di A1 di volley femminile nel suo ambizioso progetto. Le giocatrici e lo staff tecnico si affidano a Peugeot 208, giovane, ambiziosa e dinamica, come loro. Le partite in casa delle farfalle al Pala Yamamai di Buster Sizio avranno Peugeot come appuntamento fisso con giochi flash per i tifosi durante gli incontri, simpatici premi in palio e iniziative nel foyer, dove per tutto l'anno sarà esposta una Peugeot 208 con una speciale livrea che sarà messa in vendita alla fine della stagione.